Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora una calorosa buonasera a tutti i nostri ascoltatori Ore intense di mercato in casa Viola La squadra di Montella Dopo essersi vista passare davanti gli empolesi Traorebbe e Nasser Prova a riorganizzare le idee per costruire il nuovo centrocampo Con Lucas Biglia, regista del Milan, che sta risalendo posizioni Ma spuntano anche le piste Luis Gustavo e Medel Il primo, ex centrocampista del Bayern In forza al Marsiglia, è una soluzione non semplicissima Visto che non la lascerà alla Francia se non per un compenso interessante Quanto all'ex centrocampista dell'Inter Invece sarebbero partiti i primi contatti con il Besiktas, suo attuale club Con 5 milioni che il club giugliato sarebbe risposto ad offrire L'operazione potrebbe decollare Linea mediana che nella prossima stagione sarà priva di Jordan Vertut Il centrocampista francese starebbe pensando di non rispondere L'eventuale convocazione per il ritiro di Moena Per Fiorentina1.com Vincenzo Pennisi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola